Approvato dal Governo il decreto sottoscritto dai ministri Pichetto Frattini e San Giuliano con cui è stata emanata la valutazione ambientale strategica per il porto di Brindisi, un passaggio importante atteso legato al piano regolatore dopo quasi 50 anni. Il documento proposto dall'autorizzazione di sistema portuale del mare adriatico meridionale rientra tra gli strumenti di programmazione futura del porto brindisino. Nel piano infatti sono contenuti e previsti investimenti a servizio della cantieristica ad esprimere. La sua soddisfazione è il presidente dell'autorità di sistema portuale, Ugo Patroni-Griffi. È una tappa importantissima per lo sviluppo del porto perché significa che adesso non ci sono più scuse all'approvazione del piano regolatore portuale, cioè una volta redatta la relazione di sintesi che recepisce il decreto VAS sarà compito il comitato di gestione approvare in via definitiva il piano regolatore portuale di Brindisi e dotare questo porto di un importantissimo strumento di programmazione. Dotarlo di uno strumento che gli permetta di superare i momenti di difficoltà nel breve termine, nel medio, ma soprattutto nel lungo termine. Dai una prospettiva lunga e quella prospettiva che stanno aspettando gli investitori. Soddisfa tutti i settori dell'economia del mare che si collegano a questo porto, dal traffico di passeggeri, con la componente legata al turismo, quindi le crociere, il traffico commerciale, ma anche il traffico industriale legato non solo al retroporto e quindi al petrolchimico, alla zona industriale, ma anche a tante imprese manifatturiere che sono anche a Brindisi che hanno necessità di una banchina e di banchine attrezzate per il cosiddetto project cargo.